Se metto la barra del volume qui non si sente nulla, se la metto al massimo non si sente nulla, niente, non c'è audio nell'intro, a parte la mia voce. Un bel po' di tempo fa avevo recensito il gioco Battle Rush e basta. Poi oggi grazie a Mattis Mapping, Mattis Mapping, lo ripeto perché magari l'ho detto male, ho scoperto che è uscito Battle Rush 2 e quindi lo proviamo, anche perché ho visto delle immagini e sembra veramente fatto bene rispetto al primo. Proviamolo. E' ancora in fase alfa e al momento costa circa sui 5 euro su Steam. Vediamo un po' cosa ha da offrire. Menu minimalista, statistiche, settaggi, ovviamente non c'è l'italiano, o sì? No, non c'è, perché video è video, audio è audio, mouse e tastiera non credo che abbiano lingua, quindi solo in inglese, meglio che solo in russo insomma. Andiamo su play. E quanta gente? Ben 4 server. 4 server di cui 1 vuoto, 2 con 1 persona e 1 con 11. Andiamo in quello da 11. Ho detto che le immagini prometteva molto bene, ma mi sa che abbiamo qualche piccolo problema a trovare giocatori. Ok, comodo tutto. Che è successo? Va bene. Rifleman, skilled però, devo ancora salire di livello. Va bene, rifleman standard e via. Ah, ok. Tedeschi o alleati? Beh, facciamo alleati, che qui sono in 4 contro 6, almeno 5 contro 6. Andiamo. Allora, in basso abbiamo la mappina, non ci si può arrampicare, per cui dobbiamo fare il giro e trovare un'apertura. Eccola qua. Vedo una P rossa e una N verde. Andiamo alla P. Con Control ci si abbassa, va bene. Sì, però non c'è bisogno di lasciare la scritta Battle Rush in alto. Nel senso, levatela. Tanto so cosa sto giocando. In ogni caso... Mi sono un po' perso su quello che devo fare. Sento musica. C'è la musica. Bene, se io vado al gromofone, schiacciala e parte. Bene. Questo? Ah, mi fa prendere della roba. Ottimo. Beh, interessante come cosa. Vabbè, lasciamo con la musica che va. Ma mi piacerebbe anche trovare un... ...mappa con la M? Ah, perfetto. Eh, ma che mappa grande. Allora, io punto alla P. Credo. Lo scopriremo solamente una volta che usciremo da quel cerchio verde della mappa. Ma mi sa che la musica è di sottofondo. E basta, non è il gromofono. Va bene. Andiamo a vedere cosa succede se vado nella zona rossa. Uscito dalla zona verde non è successo niente. Va benissimo, direi. Perché il piccone? Cosa è? Fortnite? Che strano effetto. Vabbè. Riprendiamo il fucile. Sparare. Va bene. Comandi classici. Destro si punta. Sinistro si spara. R si ricarica. Ok. Eccolo, là già che iniziano a spararmi. Come si fa a sdraiare? Saltino. Non mi vede nessuno. Sono velocissimo. Una lepre. Destra, sinistra, destra, sinistra. Cacchio, mi ha preso. Vabbè, io vado nella casetta. Me l'ho cavata. Bene, sono in pastia. E quindi? Veloce come un ninja. C'è gente? Oh, sì, lì c'è uno. La mia prima kill in assoluto. Qua c'è uno però. Là, guardalo. Non potevi dimmelo prima che mi mancavano colpi? Vabbè. Vabbè, non lo beckerò. Vabbè, grazie. Non lo beckerò mai da qua. Sta scendendo. Ah, sì, sta arrivando qua. Sono in due, tra l'altro. Mamma mia, che cosa odiosa sta cosa dei colpi. Poi, il fatto che ci si abbassi e devo tenere il premuto contro è un po' scomodo. Dovrò cercare di sistemarlo e... Tre kill! Ma signori, ma questo è un mostro, non è un ragazzo. Non so, ma che se ne ho accorto. Tic! No, cacchio! Quattro kill. È un po' sbilanciato la difficoltà. Ma, signori, ma sei zero! Ma ho scoperto un gioco finalmente dove sono forte! Però non ci sono più nemici. Devo andare a conquistare la zona? Che dite, vado? Ah, io vado. Che me frega tanto. Intanto magari ricarico, visto che c'è solo un colpo. Gente qua che mi spara, andrò, mi becca. Ma che bella statua sovietica. Io punto quel 72. Questo qua? Che mira a ghiacciante quando sono in movimento. Vabbè, ma tanto viene fregato assolutamente nulla quello lì. Io sento gente che mi spara, ma... Oh, finalmente! Ammazzato da un bot! Che roba atroce! Che sgrado, signori! Ma che sgrado! Che brutta roba! Come faccio a rispond... Ah, ok, perfetto. Niente, torno qui. Ma posso fare lo skilled? E skilled cosa c'è in più? Il caschetto. Sì. Va bene. Riproviamoci. Sono a Nicholsco. Allora, iniziamo a tenere un po' le somme. Cioè, le somme. Andrò un po' di giudizi. Graficamente non è malvagio. Tra l'altro vedo là un carro armato che si muove. Quindi ci sono anche i veicoli, roba fichissima. La mappa, in verità, è anche bella grossa. Perché se ci mettiamo di nuovo a vedere... Somma. Non sarà il livello di PUBG, però... O di altri Battle Royale. Non che questo sia un Battle Royale, sia chiaro. È solo che i Battle Royale, ovviamente, devono avere mappe molto grosse. E questo, pur non essendolo, è una mappa decisamente interessante. Soprattutto con il prezzo che ti richiedono per il pagamento del gioco. Vi ho solamente un piccolo problema. Mentre io corro verso... Pastia. Pastia? Pastia, credo che si chiamasse. Sì. E il fatto che... Mi sono fatto male cadendo. Il fatto che abbia trovato solamente quattro server, di cui uno con un numero di giocatori degno di nota. Lì c'è un nemico. Dicevamo, con un numero di giocatori degno di nota, mentre invece, che è brutto il rumore del cannone però, che va in creeping, fa quell'effetto così. Poi sta musica qua ogni tanto che parte. Andiamo a spegnere il gramofono qua. Ma, ok. Dicevamo, solamente un server con un numero di giocatori degno di nota. Gli altri due, anzi scusatemi, gli altri tre, avevano o uno o zero giocatori. Di conseguenza, abbastanza inutili. Può essere che sia perché è un gioco poco considerato, però nel frattempo ho la possibilità di far vedere il fatto che... Ma quello è un bot. Ma sì, deve essere per forza un bot. No, invece era un Russian Lada che mi ha ammazzato. Dicevamo, avete visto che, per esempio, le pareti però si distruggono. Cosa che avevo già notato nel primo Battle Rush, vedendo che, appunto, gli edifici erano distruggibili. E direi che è una cosa molto interessante. Tra l'altro sto vedendo un'altra cosa interessante. Se tu vieni killato con una determinata classe, puoi risponare subito, però utilizzando un'altra classe. Perché, infatti, qua mi dà il blocco di 37 secondi, mentre gli altri, invece, sono liberi. Di conseguenza, andiamo in campo con il fucile d'assalto. Un mitra che avrà un rinculo leggendario, vediamo. Ma non è anche tanto, pensavo peggio. Allora, però bisogna capire perché ci sono pochi server. Ci sono pochi server perché ci sono pochi giocatori. O ci sono pochi server perché sto cannone qua di fianco ha rotto le palle. O ci sono pochi server perché non ci sono server dedicati da parte degli sviluppatori. E qua bisogna vederlo. Ripeto, è anche vero che però siamo in un'alpha e di conseguenza, se siamo in un'alpha, si prospettano degli sviluppi. Anche perché se mi fai pagare 5 euro per quanto poco possa essere un gioco, io presumo che tu prima o poi mi faccia avere un titolo completo. Mamma mia, sparare da questa distanza con un mitra del genere è improponibile. Ah, ma è loccata la mira. Eh sì, è loccata. Graficamente non eccelle. È un po' scarnino, diciamola così. Ma perché se io ho spento il grammofono qua è ripartito? Oh, è un po' scarnino, però non è che abbia una grafica così pessima da dire, oh ma che schifo. Sto facendo un massacro di bot. Certo è che ripeto... Ah, c'ho anche le granate. Che brutta era la granata. Ammazzato di nuovo da un bot. Troppa gente che spara. Puoi sentire. Io spero che si senta il gioco perché... Se no è un bel casino. Non trovo più il mouse. Signore, dove fin... Ah, qua. Allora, assalto è stato bloccato. Machine Gunner. Andiamo col pesante. Sempre Nicholsco. Ok, quindi Nicholsco è fondamentalmente la base di partenza per il nostro team. Non capisco nella mappa in basso i punti blu e i punti arancioni. Presumo che i punti blu siano i bot e i punti gialli quelli invece umani. Così se ci fosse un carro armato io lo proverei anche volentieri. Quello è un carro armato? Eh, cosa sta facendo? Non è neanche segnato sulla mappa. Se io gli sparo succede qualcosa. Assolutamente niente. L'ha il carro armato! Non ho assolutamente capito cosa si... Ah, quella là è gente. Ma quindi i viola sono i giocatori reali. Eh sì. E l'arancione non ho mica capito però. Vabbè, io prendo il mio bel carro armato e mi sono seduto di fianco. Ma io non voglio sedermi di fianco, voglio entrarci. Da dentro? No, loot box. No, il veicolo è chiuso. Ok. Vediamo gente che ha sparato. Open loot box. È sempre chiuso. Presse e mi siedo di fianco. Ci sarà dentro qualcuno allora? Bah! Vabbè, andiamo verso la città e spariamo ancora un po'. L'altro partita ha 47 minuti. Cioè qua stanno cercando addirittura di puntare a partite da un'ora. E credo che Yor è in emissioni ticket di ingresso. Quindi 199 a 196. Quindi staremmo vincendo. Il problema è uno. Ora di arrivare alla fine della partita... Sarà una cosa lunga. Tra l'altro è entrato uno che si chiama accoltellato non a un panda. Fantastico! Va bene, io provo ad andare a sparare con questo fucile qua. Quanto sei stronzo. Ciao, ultima run e proviamo con l'officer. Che ha un fucile normalissimo. In ogni caso... Allora, il gioco lo potete vedere in questo momento. Diciamo che potete dire un po' voi le somme. Per me chiedere 5 euro... Non è tanto alla fine, se ci vogliamo pensare. Però, al momento non è ancora abbastanza popolato per poter offrire, secondo me, il livello di divertimento che potrebbe offrire una volta che ci saranno molti più giocatori. Però, per essere più giocatori, si deve ancora un po' sviluppare, immagino. Il mio unico timore è che... Una volta che usciranno gli altri aggiornamenti... E che il gioco esca dalla fase B... Alfa, scusatemi. Alfa o Beto. Alfa, beh, comunque. Alfa, 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 Beto. Posso aumentare anche il prezzo. Oh! Vai il camper da un'altra parte, va. Detto questo, io continuo qua e vi saluto. Comunque se avevo ragione, erano i ticket di ingresso in campo.